Allora, buongiorno a tutti, l'obiettivo di oggi è quello di rivedere assieme un po' di aspetti generali e lo facciamo partendo da quella che era la versione estesa dell'ultimo esercizio di laboratorio. Qui vediamo il progetto con un po' di classi. Questo progetto lo trovate sul repository degli esercizi, cioè ve lo apro di qua OP Polito IT SVN OP 2020 ITA 1 Trovate questo OP Lab Hydraulics Ext che è sostanzialmente quello che stiamo vedendo ora quindi se volete usare quello, quel repository come punto di partenza, diciamo che ci troviamo esattamente con lo stesso codice. Se volete vi metto il link direttamente sul chat Ok, a questo punto partiamo da quella che era la soluzione e poi vediamo come possiamo estenderla utilizzando i nuovi requisiti Innanzitutto i test che io qui ho direttamente, voi probabilmente lo avete sotto forma di file jar possono essere eseguiti e quindi io vado a prendere all test e faccio RANES JUnit Test e quindi vado a verificare che tutto funziona. Questi sono i test della prima versione del laboratorio, ovvero quella che definiva gli elementi di base, quindi non ci sono tra quei test quelli che verificano le nuove caratteristiche Le nuove caratteristiche sono verificate da questo test minimale che ovviamente se io vado ad eseguire mi dà un fallimento perché ovviamente non abbiamo ancora implementato nulla, abbiamo semplicemente quello che era già presente Prima di concentrarci sui nuovi requisiti quello che vorrei provare a fare con voi è prendere la soluzione che avete già visto non ben discorso ma quello precedente e provare a adattarlo utilizzando le collezioni Iniziamo dal nostro sistema idraulico La soluzione che avete visto prevede di andare a memorizzare gli elementi Allora, domanda I test sono già stati eseguiti? Sì Dovrei avervi mandato i test, i risultati, ma verifico se non li ho mandati C'è qualcuno che per caso li ha ricevuti? Mi confermate che nessuno tra di voi ha ricevuto i test? Ok, sulla prima parte Allora, se era sulla prima parte Ecco, sulla parte estesa no, non vi ho ancora mandato i test perché volevo prima presentarvi una soluzione e dopo di che vi mando i test Ok, così capiamo gli elementi fondamentali Sulla prima parte invece dovrebbero esservi arrivati Ok, perfetto Se a qualcuno non sono arrivati magari mandate un'email o vi siete persi l'email da qualche parte oppure c'è stato qualche contrattempo e quindi eventualmente fatemelo sapere ve li rimando o quantomeno vi mando il link ai test quindi potete eseguirli poi direttamente sul vostro PC Ok Quindi torniamo al nostro codice quello che vedete qui è la soluzione che vi è stata mostrata sostanzialmente la settimana scorsa in cui si utilizzano gli array la soluzione prevedeva gli array perché sostanzialmente non avevamo ancora introdotto le collezioni e quindi questo esercizio era pensato per farvi utilizzare gli array A questo punto cosa facciamo? Proviamo a sostituire gli array con qualche struttura un po' più significativa e un po' più facile da utilizzare quindi invece degli array andiamo a mettere un private ad esempio liste di element elements liste ovviamente come tutti è da importare vi ricordo di fare molta attenzione quando fate l'import di liste perché esistono tante liste nelle varie librerie Java e quindi fate attenzione a importare quella giusta ovvero quella che si trova in Java appunto utile che in questo caso nell'encoff che vediamo qui è la prima però a volte potrebbe non essere la prima quindi in generale occhio ai suggerimenti di Eclipse sono utili perché vi permettono di risparmiare tempo però non è detto che il suggerimento che vi viene dato sia corretto o che tra i suggerimenti il primo sia quello più corretto degli altri ok? quindi i suggerimenti di Eclipse sono una scorciatoia non un sostituto al pensiero autonomo quindi importiamo il nostro liste domanda differenza tra array list e array allora esiste una classe nelle librerie Java diciamo vecchie che si chiama array array funziona grosso modo come un array list ma non è integrato all'interno del framework delle collezioni e quindi sostanzialmente veniva utilizzato molti anni fa diciamo così nel secolo scorso attualmente tendenzialmente non lo si usa perché è una classe che non è integrata nel framework delle collezioni e quindi non è omogenea da utilizzare con le altre quindi in generale la classe array sebbene ancora presente sostanzialmente per motivi di compatibilità all'indietro non viene utilizzata molto però il funzionamento è analogo a quello dell'array list quindi se lo trovate in frammenti di codice più o meno vecchi quindi sappiate che il funzionamento è simile solo che non è integrato dentro le collezioni quindi non implementa collection eccetera eccetera a questo punto dopo aver fatto questa modifica dobbiamo andare a decidere come trattarlo io qui non ho messo l'inizializzazione la devo aggiungere quindi new e qui possiamo scegliere il tipo di implementazione non ci sono in questo momento motivazioni particolari per andare a scegliere una classe piuttosto che l'altra diciamo che ne prendiamo una a caso e poi se scopriamo che una va meglio dell'altra andiamo a sostituirla tanto lo possiamo fare perché element di fatto è un list quindi andiamo linked list anche questa è una classe che deve essere importata allora tra array list e vettore beh un vettore è diverso perché allora la domanda la differenza tra un array list e un vettore l'array list è una classe il vettore è un tipo di base e sostanzialmente il vettore ha una dimensione definita all'inizio mentre l'array list è un qualcosa che si espande e quindi questa è la differenza fondamentale a questo punto ovviamente non possiamo più utilizzare le quadre perché le quadre sono proprie degli array mentre noi invece stiamo utilizzando una lista e quindi la lista ha il metodo add e quindi andremo a mettere elements punto add elem e quindi a questo punto non ci serve più il nostro next per andare ad accedere ogni volta a un elemento successivo abbiamo poi questa operazione io sto seguendo tutti i metodi e vado a vedere dove ci sono gli errori nel margine e quindi sostanzialmente allora c'è un qualche disallineamento ok allora vado a vedere tutto il codice e cerco di capire dove sono gli errori nel margine e gli errori sono dovuti sostanzialmente al fatto che abbiamo cambiato il tipo di elements da un array a una lista a questo punto l'obiettivo qua è restituire un array di elementi invece di fare tutto questo noi possiamo utilizzare un scusate elements.toArray Array a return allora domanda avrebbe senso utilizzare il generico t che estende elements così da poterlo utilizzare dopo con element ext per l'ultimo punto allora sì in realtà io qui non posso mettere quando vado a dichiarare una una variabile non posso utilizzare un tipo generico perché altrimenti devo mettere generica anche la classe in ogni caso se io ho una lista di elementi come in questo caso all'interno della lista posso mettere ovviamente gli elementi ma posso mettere anche una qualunque delle sue classi derivate l'unica cosa che cambia è che il metodo get diciamo così quello che permette di accedere agli elementi mi restituirà un element e quindi se si tratta di element x dovrò fare un'operazione di cast allora altra domanda visto che siamo qua tra LinkedList e ArrayList la domanda è dal punto di vista comprensionale il ridimensionamento di un Array quanto è influente rispetto alla LinkedList che in cui sostanzialmente non abbiamo un ridimensionamento ogni volta ma aggiungiamo un nuovo elemento allora il ridimensionamento dell'array può essere rilevante nel senso che man mano che cresce a intervalli io dovrò andare a aumentare la dimensione del mio Array in ogni caso quello che faccio è un'operazione unica di allocazione mentre invece nel caso della LinkedList io ogni volta che aggiungo un elemento devo andare a allocare un oggettino che mi rappresenta il nodo della lista che vado ad aggiungere quindi nel caso della LinkedList io ho tante piccole allocazioni ogni volta che aggiungo un elemento nel caso della ArrayList io ho alcune allocazioni periodiche quindi dopo molto tempo quando raggiungo la dimensione quindi ho sì un rallentamento a intervalli ma quel rallentamento tutto sommato non è particolarmente rilevante occupo della memoria questo sì ovviamente però l'allocazione in sé non è così complicata perché alloco un unico blocco intero normalmente l'allocazione è pesante in termini di quante ne faccio non di quanta memoria alloco stiamo parlando di tempo ok non so se ho risposto alla domanda sì diciamo che sono sono confrontabili quindi la LinkedList soprattutto se devo andare a fare delle scansioni è molto pesante mentre invece il vantaggio della ArrayList è che io posso accedere agli elementi con semplicemente l'indice e quell'operazione è molto molto più efficiente allora elements2array che cosa fa ci restituisce un array di object perché se ricordate quando abbiamo parlato dei dei nostri metodi generici del fatto che comunque in realtà c'è l'operazione di type azure in cui viene eliminata il tuo array non può al suo interno andare a creare un array del tipo giusto perché all'interno della classe LinkedList non si sa il tipo degli elementi il tipo degli elementi è noto soltanto all'esterno dove il compilatore fa i controlli per cui tuo array in realtà restituisce un array di object perché è il modo standard di comportarsi quindi io qui dovrei andare a mettere un array scusate un cast a array di element ok oppure meglio ancora esistono due varianti del metodo tuo array che sono una quella che vediamo qua è un'altra quella che riceve in come parametro un array del tipo corretto e semplicemente lo va a riempire quindi l'altra alternativa è fare un return di elements.to array e qui dentro andare a mettere un new element quadre e qui vado a mettere una dimensione la dimensione che permette di mettere di contenere tutti gli elementi che stanno nella nostra lista ovvero elements.size ovviamente questo devo commentarlo altrimenti l'altro codice non è raggiungibile ok qual è la differenza? la differenza è che sostanzialmente io qui sto dicendo al compilatore di credere che l'array potrà essere convertito in un array di elementi cosa che però in pratica non è vera in questo caso invece sto creando un array di elementi e sto dicendo al metodo tuo array di riempirlo e quindi da un punto di vista di pulizia del codice tutto funziona a questo punto vedete che tutto il codice avendo fatto quest'ultima modifica è a posto e funziona quindi io posso andare a rieseguire il mio codice i miei test e andare a vedere se tutto funziona e in effetti i test mi dicono che ancora tutto funziona esattamente come prima quindi che cosa ho fatto in questo caso? ho fatto una serie di modifiche sostanzialmente ho sostituito l'array con una lista e poi ho utilizzato i test una volta corretti gli errori immediati come una specie di rete di sicurezza che mi garantisce che posso andare a modificare e toccare qui e là rieseguendo i test ho una certa forma di garanzia che il nostro codice continui a funzionare ovvero che le modifiche non abbiano intaccato le funzionalità di base allora torno un attimo prima allora l'altra possibilità qui vi dicevo è quella di fare un cast il problema è che se io faccio questo cast ho un errore osservazione il primo return genera un class cast exception esattamente quello che abbiamo visto adesso c'è stato un ritardo sulla chat però esattamente quello che vi ho fatto vedere adesso perché? perché quello che viene restituito da questo metodo è un cast ve lo scrivo qua di fianco object quadre con questo cast noi stiamo cercando di fare un una conversione a element quadre quindi da un array di object a un array di element non è così è come se stessi facendo questo ve lo faccio in maniera assolutamente analoga ma se io avessi un element e uguale a cast a element di un qualcosa che è new object l'oggetto che io ottengo qua è un object non posso fare un cast a element perché ho un object ricordiamoci che il cast funziona nel momento in cui il riferimento è di un tipo che corrisponde alla classe esatta del nostro oggetto oppure a una sua superclasse quindi quello che noi abbiamo se vi ricordate la struttura delle classi è io ve lo disegno qua a mano io ho la classe di base object che è la classe di base per tutte e poi ho le varie classi tra cui element quindi element estende object se io ho un oggetto di questo tipo non posso farlo puntare da un riferimento di questo mentre è vero il viceversa se io ho un oggetto element posso farlo puntare da un riferimento di tipo object quindi come io avrei un class cast exception in questo caso esattamente ce l'ho anche in questo ripeto ripeto perché 2array non funziona perché 2array ci restituisce un object perché come avevamo detto parlando dei nostri tipi generici all'interno della classe linked list io non ho informazioni su qual è il tipo degli elementi perché abbiamo visto che java fa l'operazione di type azure quindi da tanti tipi che idealmente potrebbero esistere quindi una lista di stringhe una lista di elementi una lista di studenti eccetera in realtà lui produce un'unica classe e essendo una in quella classe non ci sono informazioni sul tipo specifico quindi 2array non può far altro che restituire un array di oggetti ok? a questo punto se noi restituiamo un array di oggetti e cerchiamo di fare un cast a un array di element perché è il tipo di ritorno del nostro metodo quello che otteniamo lo vediamo nel nostro test è un class cast exception che ci dice sostanzialmente che un array di object non può essere convertito in un array di element ok? vi copio il messaggio qua sotto scusate in realtà mi ha copiato tutto lo stack di chiamata ok? quindi class cast exception questo è il nome con cui il compilatore tratta gli array di object quindi vedete quadro l e poi il nome della classe non può essere convertito non può essere quindi si può fare il cast a quadro l di hydraulic element ok? quindi il cast non funziona ma in realtà qui da un punto di vista di errore non c'entra tanto il tipo generico i tipi generici c'entrano sul fatto di cosa può restituire il tuo array ok? il cast forzato è quello che facciamo qua e per l'appunto ci da un errore in fase di runtime domanda in linea generale posso fare un cast solamente da una classe figlia ad un padre allora io posso fare un cast anche da una classe padre ad una classe figlia però devo garantire che allora vi apro una parentesi sui cast così li ripassiamo vi apro un nuovo file in cui mettiamo alcuni esempi così ci creiamo le idee quindi nuova classe esempi cast ok? ve lo faccio con string e object ok? così evitiamo di coinvolgere element per string e object vale ve lo ve lo replico anche di là questo schema dove in realtà string è una sottoclasse di object quindi questa relazione possiamo dire che string è sottoclasse di object string string è classe derivata da object object è classe base per string string c'è un altro modo di dire string è classe figlia object è classe padre che a questo punto immaginiamo di avere esattamente io ve l'ho scritto in italiano in in java diremmo che string extends object o se preferite lo scriviamo anche qua string estende object ok vi ho messo un po' di sinonimi perché magari parlando utilizzo tanti uno di questi sinonimi giusto per chiarire facciamo facciamo un riepilogo quindi ci mettiamo tutto a questo punto io posso avere ovviamente un object o uguale new object ok classe new assegno a un oggetto posso avere una stringa s uguale new string aperta chiusa uso i costruttori invece di utilizzare le virgolette ok in modo che voi possiate sostituire a string qualunque classe voi vogliate visto che qualunque classe implicitamente estende object a questo punto o ed s ovviamente sono due riferimenti rispettivamente con tipo o e tipo s a questo punto definiamo due riferimenti object riferimento object e string riferimento string in realtà come ve l'ho disegnata qua non va tanto bene perché non si vede l'alto e il basso però ve lo faccio in questo modo ve lo disegno ve lo disegno la stessa cosa solo che metto string sotto il invece che di fianco e così è più chiaro cos'è l'up e cos'è il down ok quindi up vuol dire andare verso l'alto down vuol dire scendere verso il basso ok vi sposto questo sopra così lo vediamo meglio a questo punto io posso fare qualunque cosa in termini di codice posso ovviamente dire che un riferimento object è uguale a s ok questo va bene perché riferimento a object è uguale a s vuol dire che sto facendo un da string a object vado verso l'alto è un upcast sempre corretto non c'è problema tutte le stringhe sono anche oggetti e quindi questo è corretto ovviamente io lo posso anche scrivere questo è implicito lo posso anche scrivere in maniera esplicita quindi fare cast a object di s in questo caso è una cast esplicito e comunque è sempre corretto esattamente come prima gli upcast non ci danno problemi poi ho i downcast ovvero ho un riferimento object e lo voglio convertire a un riferimento tipo stringa ricordiamoci che il compilatore sa sempre e soltanto il tipo dei riferimenti non sa nulla del tipo degli oggetti effettivi quindi il downcast è quando io faccio riferimento string uguale da un cast a string di ad esempio riferimento a object questo è un questo va bene il compilatore infatti il compilatore non ci sta dando nessun errore è un downcast esplicito ma devo sempre metterlo esplicito il downcast il compilatore si fida quello che invece non possiamo fare è ve lo scrivo qua sotto fare un downcast implicito downcast implicito questo qua non va bene perché il compilatore non può sapere se se riff object punta a una stringa e quindi ci dice io per sicurezza non ti lascio fare questa operazione te la lascio fare soltanto se tu me la fai esplicita ovvero se mi garantisci che tu per come hai scritto il programma sai che in quel momento quella è una stringa c'è una domanda ma rispondo tra un attimo ok quindi questo qua non lo possiamo fare il compilatore non ce lo lascia fare a questo punto io posso anche fare un'altra operazione cioè fare riff string uguale cast a string di o e qui va lo stesso ragionamento di prima il compilatore si fida c'è però una grossa differenza tra questi due riff object per come è stato costruito per come ho scritto io il programma un attimo fa di fatto punta a un oggetto che era puntato da esse e che è effettivamente una stringa quindi a runtime questa cosa andrà a buon fine questa cosa qua è ok per il compilatore ma a runtime ovvero in fase di esecuzione genera un class cast exception mentre invece questo a runtime funziona perché effettivamente riff object punta a un oggetto string string ok a questo punto quali metodi possiamo andare a chiamare su i vari oggetti di nuovo è il compilatore che decide che metodi possiamo chiamare ok poi in fase di esecuzione può succedere qualunque cosa però se il compilatore non ce lo lascia fare noi non possiamo farlo punto ok vi faccio l'esempio della legge se il decreto del presidente del consiglio dice che non si può entrare nei parchi almeno fino alla settimana scorsa e non si può che poi in pratica se noi potessimo entrare non ci sarebbe nessun problema è un altro discorso quello che noi valutiamo è l'aspetto formale ed il compilatore ci fa questa verifica a questo punto torno alla domanda e confermo anche quella che è la risposta che c'è in chat dopo l'upcast a questo punto fatto l'upcast quindi avendo riff object che cosa posso fare? su riff object allora vado sopra scusate con il cursore vedete che mi dice che è un object a questo punto se io faccio riff object punto gli unici metodi che posso chiamare sono quelli definiti dentro la classe object perché di nuovo il compilatore guarda l'aspetto formale quello è un riferimento di tipo object di conseguenza mi lascia chiamare soltanto il metodo di tipo object a lui non gliene frega niente che in realtà quell'oggetto l'oggetto puntato è un oggetto di tipo string perché lui non lo sa lui sa che è riff object ok il nostro oggetto riff object ha l'autocertificazione che dice io sono un oggetto che poi in realtà lui dietro sia un'altra cosa una stringa e il compilatore non gliene frega niente l'autocertificazione dice object ovvero il tipo del riferimento di conseguenza l'unica cosa che può lasciar fare è chiamare dei metodi che sono definiti dentro la classe object ok solo metodi definiti in object ok perché riff object è di tipo object se io voglio chiamare dei metodi che stanno in string quindi non sono definiti in object allora devo utilizzare o s oppure la versione riff string che io ho utilizzato qua a questo punto se io faccio riff string essendo riff string essendo riff string un riferimento di tipo string il compilatore mi dice va bene puoi chiamare tutti i metodi che stanno in string ovviamente essendo string l'abbiamo detto prima una classe che stende object dentro quel riferimento oltre ad avere i metodi che sono propri della classe string abbiamo anche quelli che sono ereditati dalla classe object e quindi possiamo chiamare quelli propri di string più quelli di object se avessimo più livelli di ereditarietà allora avremmo i metodi propri di quella classe più quelli ereditati dalla superclasse più quelli della superclasse eccetera via di questo passo allora vi commento questo vi commento questo se io faccio object o uguale new string chiamiamolo doppia o così non abbiamo il duplicato con quello fatto sopra e o che cos'è? è un object il compilatore guarda soltanto questo di conseguenza o mi permetterà di chiamare ma Eclipse ce lo suggerisce soltanto metodi che sono definiti nella classe object ok? lui non fa un ragionamento in più dice sì ma in realtà quella è una stringa perché il tipo del riferimento che abbiamo dichiarato qua è un object ok? mentre siamo qua a parlare di cast e up e down ci sono altre domande allora il downcast domanda non è chiara l'utilità del downcast a cosa può servirmi? quindi il downcast serve nei casi in cui io ho un riferimento di tipo generico e voglio andare a fare un'operazione di a chiamare un metodo più specifico che si trova non nella classe generale ma nella classe specifica ok? ad esempio immaginiamo di scrivere un metodo int static int più grande scusate non devo usare le lettere accentate più grande che riceve due object a e b e cosa possiamo fare? dobbiamo andare a confrontare i due oggetti quindi mi piacerebbe poter fare qualcosa del tipo tipo if a punto compare to b e maggiore di zero return a altrimenti t return b scusate non restituisco un int ma restituisco un object ora il metodo compare to io non lo posso chiamare su a perché a è di tipo object e quindi dentro object non c'è il metodo compare to a questo punto e cosa faccio? faccio un downcast quindi vado a dire comparable cmpa uguale cast a comparable di a e uso questo riferimento al posto dell'altro a questo punto tutto funziona è ovvio che se io passo a questo metodo due oggetti diversi o dove il primo in realtà non implementa comparable questo mi genera un class cast exception ma in effetti quando voi chiamate il metodo sort su un array di elementi che non implementano comparable esattamente ottenete la stessa cosa quindi il downcast mi serve nei casi in cui io ho un metodo io ho fatto un metodo potrei avere un array un qualcosa generale con dei riferimenti a object o una classe una super classe di altro e mi interessa poter chiamare su quegli oggetti un metodo più specifico che non è definito in quella classe ma in una sottoclasse e quindi devo fare un downcast quindi il downcast serve per andare a specializzare e poi poter andare a chiamare un metodo di una classe o un'interfaccia più specifico rispetto a quello che è il riferimento di partenza ok? quindi questo è il motivo per cui serve il downcast altra domanda cosa serve fare questo? sostanzialmente poco può servire se io voglio utilizzare o o come un riferimento generale in cui metto magari una volta una stringa e una volta un altro tipo di oggetto però quel tipo di scrittura messo così a sé stante direi che non ha molto senso altra domanda prendendo il lab2 come esempio element in element text se un metodo ha un parametro element perché non posso passare un element text senza dover fare un cast esplicito? perché effettivamente quello è un... quello sarebbe un upcast se io ho un parametro element adesso lo vediamo perché non... non so bene però se io ho un metodo che riceve un element io posso tranquillamente passare un element text perché se element text deriva da element e... sarebbe un upcast e gli upcast sono sempre corretti e vengono accettati anche implicitamente però bisogna vedere il caso specifico allora e viceversa se io... allora ve lo faccio qua come... mettiamo un metodo stampa scusate... static void stampa maiuscolo e questo riceve una stringa s quindi... faccio un system out println di s.to uppercase a questo punto io posso chiamare stampa maiuscolo maiuscolo passando una stringa s questo è ovvio potrei provare a passare stampa maiuscolo un riferimento un riferimento object e questo mi dice non va bene perché... perché qui si aspetta una stringa rift object è un riferimento a object che è una classe di base e il ragionamento che fa il nostro compilatore è... non tutti gli object sono string ricordatevi l'insiemistica quindi a questo punto object è l'insieme generale string è un sottoinsieme io devo essere sicuro che l'oggetto che passo sia del sottoinsieme specifico e quindi in questo caso o io programmatore sono sicuro che in realtà quello punta a una stringa e quindi vado a mettere un cast a questo punto il compilatore si fida oppure giustamente mi dice guarda che quello è un riferimento a un object io a priori la sua certificazione dice che un object non posso sapere se in particolare è anche uno string ok traslato sulla la realtà di questi giorni se uno è un medico può circolare se però va in giro con una nota certificazione che dice io sono un cittadino l'agente di polizia che lo ferma e dice vabbè ma dice scritto che sei un cittadino non c'è scritto che sei un medico quindi io ti fermo e ti muto il compilatore ragiona nello stesso modo andando a vedere il tipo dei riferimenti domanda sull'esempio che avevamo fatto sotto B perché non facciamo il cast a comparable non facciamo il cast a comparable perché non è strettamente necessario se noi andiamo a vedere l'interfaccia comparable vediamo un po' no qui non c'è allora vado qui a mettervi un altro quindi op polito it api di ai allora scusate vado a fare ricerca qua comparable allora vedete che il metodo comparable in realtà è un compare to di t quindi nella versione che abbiamo qua il metodo compare to accetta un object e quindi quindi non è necessario fare un cast ok non so se si vedeva questo punto eccolo qua scusatemi ogni tanto salta la condivisione dello schermo allora vi dicevo che questa è la classe scusate l'interfaccia comparable c'è un metodo che si chiama compare to di t la versione base quando non facciamo la parametrizazione sostituisce t con object e quindi il metodo compare to accetta un object quindi b va bene così ovviamente nulla ci vieta di andare a fare anche un altro cast di cmp di b cast b quindi esattamente come c'è scritto lì il compilatore vede il tipo del riferimento ma non sa a che cosa punta perché in fase di compilazione non lo sa mentre siamo qua vedete che in questa scrittura il compilatore ci segnala dei warning e ci dice sostanzialmente che comparable scritto così quindi senza minore maggiore è un row type allora finisco il discorso poi rispondo alla domanda che c'è adesso in chat allora comparable senza minore maggiore è un row type quindi abbiamo detto un row type sono i tipi che vengono generati dal compilatore andando a cancellare il parametro di tipo t sostituendo object sostanzialmente e quindi il compilatore ci dice guarda che in realtà non è il massimo utilizzare un row type dovresti andare a dire qual è il tipo che vuoi utilizzare ok il punto è che qui noi potremmo andare a mettere comparable di object volendo essere ok ovviamente qua ci dice guarda che non è detto che un oggetto sia un comparable di object e quindi il warning che mi mette qua è attenzione non è garantito che questo funzioni correttamente un'altra possibilità è quella invece di mettere object mettere comparable di unknown il punto è che nel momento in cui facciamo compare to b ecco l'unknown non può essere sostituito da nessun tipo ok quindi qui mi dice unknown il parametro dovrebbe essere un unknown in realtà b è un object unknown e object sono diversi e quindi qui mi dice non c'è corrispondenza tra il tipo che mi aspetto unknown e quindi sostanzialmente vuol dire nulla e quello che mi passi che è un object ok quindi l'unica cosa che noi possiamo andare a fare qua è mettere comparable di object e qua mettere un comparable di object domanda sugli array posso fare delle conversioni? ecco una cosa di cui non abbiamo parlato molto è i cast sugli array ok quindi veniamo a vedere qualche esempio sugli array così rispondo alla domanda che c'è in allora la domanda quando facciamo il cast abbiamo poi ancora un riferimento al classe effettiva? no sostanzialmente quando noi facciamo un downcast quella è la classe che noi utilizziamo ovviamente essendo un downcast io su cmpa ho sia i metodi dell'interfaccia comparable che i metodi di object visto che comunque qualunque qualunque classe implementa object allora scusatemi che mi sono perso la posizione del cursore eccoci qua allora faccio una variante di quello che abbiamo visto prima sugli array quindi immaginiamo di avere un object quadre array di object uguale new object di mettiamone due e stessa cosa lo facciamo con le stringhe a questo punto il discorso è simile a quello di prima quindi se io faccio string quadre array di stringhe uguale array di object questa operazione non mi è consentita perché perché questo è un array di object quindi è di una super di una super classe e quindi non so se quell'array di object di fatto punti a un array di stringhe quindi qua dovrei mettere un cast questo cast a runtime mi porta a un class class cast exception perché array di object è un array di object e non di string quello che posso fare senza rischi di class cast exception è avere un object quadre array di object uguale array di string ok questo è scusate un app cast e quindi questo è corretto attenzione quest'operazione questo qui a runtime non ce lo fa fare ovviamente io poi posso fare un'altra conversione ancora e tornare quindi array di string uguale cast a string quadre di array di object questo è un down cast deve essere esplicito e a runtime funziona perché in realtà array di object a o punta a quella l'oggetto a cui puntava l'array di string che per l'appunto è un array di string e quindi quando faccio poi la conversione di nuovo in array di string a runtime funziona tutto attenzione che questo app cast come pure questo down cast non toccano l'oggetto esattamente come i cast su stringa e object non toccano l'oggetto queste due operazioni non vanno a toccare il tipo dell'oggetto quindi i cast modificano solo il tipo del riferimento gli oggetti mantengono il loro tipo ok allora domanda se io passo un metodo che accetta una classe di base e gli passo un oggetto della classe derivata ma in questa classe derivata ho un override del metodo beh sì il meccanismo del dynamic binding fa esattamente quello chiama il metodo di base allora domanda nel caso di overload in realtà probabilmente stai parlando di override il metodo effettivo utilizzato dal meccanismo del dynamic binding è quello più vicino al riferimento? no l'idea è il dynamic binding prende il riferimento va a vedere il tipo effettivo dell'oggetto quindi ignora il tipo e poi va a vedere il tipo e a questo punto sale se abbiamo un overload l'overload non c'è ambiguità quindi nel caso dell'overload non c'è una questione di gerarchie se io ridefinisco un metodo vado a utilizzare quello che è stato specificato quindi non c'è un meccanismo di gestione delle gerarchie allora ah ok la domanda è se ci fosse stampa a minuscolo di object in cui faccio s.object o farei o.toString.toUppercase in questo caso se io faccio stampa maiuscolo di stringa o se preferite avevamo detto s mi chiama ovviamente questo quindi questo qua mi chiama string perché c'è la corrispondenza esatta se io faccio stampa maiuscolo di o che è un oggetto ovviamente mi chiama questo è chiaro che se io faccio uno stampa maiuscolo di new integer di uno e questo non potrà chiamarmi string ma andrà a chiamarmi la versione che si basa su object ok quindi nel caso in cui io abbia più classi il compilatore cosa fa il compilatore mi garantisce che quel metodo possa essere chiamato ok quello che avviene avviene al runtime e poi io vado a vedere il meccanismo di dynamic binding io vado a prendere il tipo effettivo vado a chiamare vado a vedere se quella classe definisce un metodo e lo esegue quindi quello che fa il compilatore è semplicemente certificare che quella chiamata è corretta e quindi è molto ristretto ok ultima domanda stampa minuscolo di un integer non dà un errore no stampa minuscolo di un integer non dà un errore perché chiama questa variante che utilizza un object allora unknown in realtà la dichiarazione di di questo metodo la lasciamo da parte l'altro l'altra variante è come va a andare a utilizzare unknown allora se poi avete dettagli fate esattamente quello che sto facendo io vi prendete questa classe e provate a scrivere il codice vedete cosa succede ok la domanda a questo punto è come utilizzare unknown quando faccio l'utilizzo dei tipi generici andiamo a prendere una variante di questo metodo più grande in cui invece di avere due oggetti abbiamo le chiamiamo maggiore anzi diciamo minore così cambiamo il significato allora il primo oggetto diciamo che deve essere un comparable ok così ci evitiamo di fare questo questo confronto il compilatore come al solito ci dice attenzione qui stai usando vi faccio vedere il messaggio comparable is a row type ovvero è la variante senza i parametri quindi sostanzialmente con l'eliminazione di tutti i parametri di tipo c'è un warning e il warning sostanzialmente è quello che ci dà il compilatore quando ci dice guarda che se tu fai così io non posso farti i controlli aggiuntivi i tipi generici hanno il grosso vantaggio di avere i parametri di tipo e quindi di permettere al compilatore di verificare che i tipi degli elementi o dei parametri vengano utilizzati correttamente se tu mi metti un comparable così io non ti posso fare nessun controllo e quindi è preferibile andare a mettere un parametro ok a questo punto se io metto comparable di object vuol dire che qui posso andare a passare praticamente qualunque oggetto che implementi comparable di object vi sposto questo metodo sopra così lo vediamo vicino al codice che lo usa quello che vorrei fare è quindi andare a chiamare minore passando a e b perché il compilatore ci segnala un errore il compilatore ci segnala un errore per questo motivo allora b va benissimo è una stringa qui si aspetta un object quindi sostanzialmente viene fatto un upcast implicito ok è come se avessimo messo cast a object a il problema è che a è una stringa stringa ve lo scrivo qua implement comparable di string qui invece il compilatore si aspetta comparable di object che sono due cose diverse ok è quella che si chiama invarianza a questo punto una possibilità è dire va bene io non voglio mettere un tipo qua una soluzione potrebbe essere quella di andare a mettere unknown il punto è che però unknown in questo caso deve essere confrontato con il parametro di b e quindi ci porta a un conflitto di tipi questo è unknown questo è object e quindi il compilatore ci dice che non c'è corrispondenza quello che possiamo fare è andare a mettere neanche così funziona ecco anche così il compilatore si perde in realtà dobbiamo scrivere nell'altro senso quindi andare a mettere una qualunque classe che includa object allora in questo modo andiamo a dire che qualunque classe che è una super classe di object e quindi object stesso va bene in questo caso il compilatore ci dice che è corretto non andrei a dedicare ulteriore tempo a questo perché probabilmente voi scriverete pochi metodi con i tipi generici ricordatevi che in generale questo tipo di parametrizzazioni servono per andare a evitare che per l'appunto se non metto nulla il nostro il nostro compilatore ci dice ci dica attenzione che qui io non riesco a fare nessuna verifica attenzione l'altra possibilità è andare a dire che questo è un tipo generico più che mettere che b è unknown allora io non posso mettere qua unknown ok non esiste quello che posso fare è mettere e dire che t è un tipo generico andare a dire che qui ho un comparable di t e andare a mettere qua t a questo punto effettivamente qui devo mettere stringa a questo punto la variante che viene chiamata qua è la variante in cui in pratica a t ho sostituito string quindi questo implementa string che ovviamente è un comparable di string questa è una stringa e quindi tutto funziona correttamente la differenza tra t e unknown è che questo sostanzialmente mi definisce una famiglia di metodi e quindi posso utilizzare t in qualunque posizione invece unknown mi dice guarda che questo è un tipo che dovrai inferire tu ma a cui non si fa riferimento quindi cerca di sapere il meno possibile l'altra differenza è come vi dicevo prima che io non posso mettere qui unknown e qui mettere un punto interrogativo perché unknown non è un tipo valido quindi quello che io potrei fare intuitivamente ma che però scusate sintatticamente non è corretto è andare a dire t di object comparable di unknown e qui andare a mettere unknown ok questo è quello che mi piacerebbe poter scrivere peccato che mettere unknown come tipo di un parametro non sia sinteticamente corretto e quindi quello che posso scrivere è questo ok concettualmente è analogo a quello che io ho scritto qua sopra come nel commento però quello sotto da un punto di vista sintassi java è corretto quello sopra no e quindi mi devo limitare a quello ok a questo punto vi chiedo due minuti che bevo un po' di acqua mi bevo un caffè e riprendiamo quindi veramente cinque minuti io faccio le 9.55 alle 10 riprendiamo allora riprendiamo la registrazione e la lezione allora domanda perché non posso scrivere allora ve lo copio qua perché così almeno lo vediamo tutti non resta soltanto in chat ma resta poi nella registrazione perché posso scrivere pub non posso scrivere questo ma devo scrivere scusate devo scrivere quello ma non direttamente questo allora allora la domanda la domanda è perché devo scrivere questo e non si può semplicemente scrivere quello che sta sotto in realtà io posso scrivere quello che sta sotto il punto è che il compilatore mi da lo faccio su un'unica classe se io definisco una classe stack implement iterable ovviamente devo andare a mettere il metodo iterator stack 1 e stack 2 oppure questo e qui ovviamente iterator di stack 2 qual è la differenza allora il compilatore mi lascia scrivere entrambe le cose attenzione questi sono warning non sono errori quindi il compilatore me lo lascia scrivere semplicemente l'unica cosa che mi dice attenzione che se tu usi l'interfaccia iterable così come row type senza il parametro di tipo il risultato è che io compilatore non potrò fare i controlli aggiuntivi e quindi qui avrai un iterator quindi avrà un metodo next che restituisce un object mentre invece se tu utilizzi iterable con il parametro di tipo come in questo secondo caso io compilatore potrò fare i controlli e quindi andrò a crearti un iteratore che ha come tipo stack 2 e quindi quest'iteratore avrà come metodo un metodo next che restituisce uno stack 2 invece di restituire un object quindi non è una questione di errore è una questione di mettere il compilatore in grado di fare dei controlli che usando il row type non è in grado di fare ok? non so se ho risposto alla domanda ok? perfetto allora dal momento che in fase di esecuzione sto leggendo la domanda in chat tutti i tipi di una classe generica vengono associati con row type durante l'esecuzione nel caso uno volesse creare una classe per effettuare delle operazioni sui numeri di tipo double floating che permettesse un cambio di tipo in certi casi direttamente tipo rappresentante numero con metodi interni non si potrebbe ricorrere a una classe generica del tipo operazione t extents number allora vi aggiungo qua così ci capiamo immaginiamo di voler mettere un'operazione static che ci restituisca scusatemi è un tipo generico quindi restituisci un oggetto t e faccio un'operazione diciamo un'area che riceve come parametro un t extents number operando e restituisce ad esempio operando punto allora scusate sto scrivendo male perché questa cosa qua qui metto t e qui vado a mettere t extents number ok quindi operando posso fare punto diciamo double value e meno il punto è che a questo punto non posso convertire da t da double a t perché non so qual è il tipo effettivo di t ok quindi o vado a restituire sempre un double e a questo punto riesco a fare la conversione oppure non so bene che tipo andare a restituire posso utilizzare instance of attenzione l'instance of lo posso utilizzare il punto è che quindi se operando instance of double allora faccio qualcosa se instance of integer faccio qualcos'altro eccetera volendo lo posso fare però è un po' scomodo un po' complicato non so se allora il caso immagino fosse questo però non ho capito esattamente qual era la domanda che cos'è che avresti voluto fare oppure no ok oppure ho già risposto alla domanda allora io posso fare non posso fare instance of di t perché t ovviamente non è definito quello che posso fare è fare un instance of di un tipo quindi non so esattamente il oppure se è un'interfaccia o instance of di number probabilmente non so che il codice specifico direi questo è il caso più generale quindi io posso farlo o restituendo un tipo oppure predefinito oppure facendo una cascata di instance of per andare a restituire un double se faccio l'operazione di double su un double un integer se faccio un'operazione di integer e un log se faccio un'operazione su un nome però ovviamente non è il massimo ok quindi è preferibile non non fare questo tipo di operazione o meglio trovare qualche altra soluzione poi se hai il codice specifico magari mettilo su su slack e lo guardo con calma e poi ti do una risposta specifica ok quindi direi che ne abbiamo approfittato oggi per fare un po' riepilogo di ereditarietà e app downcast abbiamo visto qualche esempio di tipi generici abbiamo visto che l'unknown funziona ma soltanto in alcuni casi specifici perché unknown è un tipo che non bisogna nominare lo mettiamo ma per i fan di harry potter è il tipo che non si deve nominare e abbiamo visto come possiamo utilizzare ad esempio il t extents qua e poi ancora sotto nell'esempio di del minore del comparable di t per andare a mettere assieme i vari pezzi per quanto riguarda i tipi generici l'importante è che voi li sappiate utilizzare ok per cui tutte le classi le interfacce del framework delle collezioni dovete capire dovete ricordarvi che dovete mettere il tipo e che soprattutto alcune conversioni non funzionano ragionevolmente a livello iniziale non scriverete voi dei metodi generici se non in qualche raro caso e quindi non dovrete andare a mettere extents super a non super t o andare a ragionare su questi aspetti li utilizzerete e saprete che chi l'ha scritti in maniera corretta in modo che si possono utilizzare nel più ampio caso nel più ampio spettro di casi possibili a questo punto torniamo al nostro esempio domanda specifica visto che qui abbiamo parlato di array e abbiamo parlato di linked list e di array list la domanda è perché non ci sono i metodi get first e get last nella classe array list sostanzialmente perché first e last sono delle operazioni particolarmente efficienti nella linked list poi nell'array list potrebbero funzionare ma l'idea è che quei metodi servono quando io ho un qualcosa a cui posso accedere dai due estremi soprattutto quando io ho una linked list andare a prendere e soprattutto estrarre il primo elemento è un'operazione costosa perché vi dicevo che devo andare a fare uno shift di tutti gli elementi dell'array per cui per togliere ogni tentazione hanno deciso di non mettere quel metodo dentro l'array list perché è un metodo che potenzialmente è molto costoso questa è la spiegazione breve poi ci sono motivazioni storiche un po' più complicate no i metodi prendono l'indice 0 e l'indice size meno 1 nelle liste funzionano in quel modo poi se abbiamo una coda ma è un altro discorso funzionano in maniera diversa allora tornando al nostro esempio prima di fare questa digressione spero di aver chiarito un po' di dubbi in giro in modo che poi a questo punto sappiate siate sicuri sull'uso dell'ereditarietà e dei tipi generici ripeto cosa abbiamo fatto abbiamo sostituito un array con una lista abbiamo modificato i vari usi dell'array con la lista e abbiamo sfruttato i test come una rete di sicurezza che ci permette di fare le modifiche e verificare di non aver intaccato nessuna funzionalità già presente questo è il motivo per cui è fondamentale quando si scrivono dei programmi scrivere assieme dei test perché qualunque programma che abbia una minima utilità è destinato a evolversi nel tempo e nelle evoluzioni è comune mandare a introdurre qualche piccolo difetto ora se voi avete una batteria di test molto ampia che vi permette appena avete fatto una modifica di verificare di non aver rotto qualcosa che già prima funzionava questo vi mette in una situazione di sicurezza perché appena vi accorgete che avete introdotto un errore nel vostro programma potete porre rimedio se invece non avete una batteria di test fate la modifica introducete l'errore o il difetto qualcuno prima o poi se ne accorgerà a quel punto è tardi avete già fatto un danno e soprattutto il tempo che trascorre dal momento in cui avete introdotto il difetto al momento in cui ve lo segnalano è molto lungo e quindi sarà molto più difficile andare a capire che cosa avete modificato e qual è la causa se invece voi fate una piccola modifica eseguite il test e scoprite subito se c'è qualcosa che non funziona avete un ciclo molto breve e quindi siete focalizzati ed è molto più facile e molto più economico andare a risolvere il problema questo è il motivo per cui i test sono qualcosa di fondamentale che vi permette di camminare in sicurezza ok non sono strettamente necessari ma sono molto utili ok servono a ripararvi e darvi un po' di sicurezza nei casi particolari ok per cui io posso arrampicare su una parete di roccia tranquillamente a mani nude senza nessuna protezione il problema è che se succede qualcosa casco per qualche decino centinaia di metri se invece sono legato casco di un metro o due e tendenzialmente non mi faccio molto male sui test è la stessa cosa non è che non commetto gli errori nel codice però me ne accorgo subito e quindi riesco a rimediare in tempi brevi senza particolari danni abbiamo fatto un po' di digressioni qua sul fatto che il metodo array abbiamo visto che visto che è una classe generica ci restituisce un oggetto che è un array di oggetti e questo in questo specifico istruzione viene convertito con un cast in realtà non l'oggetto ma il riferimento viene convertito a un array di element tuttavia l'oggetto è un array di object e non possiamo fare un downcast o meglio il compilatore ce lo accetta ma poi a runtime scopriamo che in realtà un array di oggetti non è un array di elementi e quindi ci viene segnalato un class cast exception ovvero array di object non può essere trasformato in un array di elementi ok o meglio cannot be cast vuol dire che non posso far puntare un array di oggetti da parte di un riferimento di array di elementi quindi questa scrittura sebbene dal punto di vista di compilazione non ci dia problemi come tutte le volte in cui mettiamo un downcast il compilatore si fida in fase di esecuzione ci dà un problema molto meglio andare a utilizzare questa variante del metodo toarray che invece parte da un array che passiamo noi al metodo e semplicemente lo va a riempire quindi l'array è del tipo giusto il metodo toarray semplicemente lo riempie con i riferimenti agli elementi e ci restituisce i risultati domanda cosa significa l allora questo quadra l che vediamo nel messaggio d'errore è il modo diciamo interno del compilatore scusate in realtà non del compilatore ma della virtual machine di andare a rappresentare i tipi quindi quadra l è il nome interno diciamo così della classe array di oggetti vedete che la quadra ovviamente sta per array e l sta non so per che cosa ma qualcuno che ha definito la codifica ha detto che gli elementi sono di quel tipo quindi quadra l e poi il tipo degli elementi infatti anche qui dietro scusate anche qui dopo quadra l e poi hydraulic element che è il tipo degli elementi è un po' come se noi quando facciamo questa operazione facessimo un new quadra l i draw click punto element e passassimo come parametro element punto size ok adesso ovviamente il compilatore ci dice che guarda che questa cosa qua non funziona oltre a non essere il new qui non funziona perché questo qua non è un nome che noi possiamo utilizzare ma sostanzialmente è come se avessimo fatto una cosa di questo tipo ok a questo punto abbiamo fatto una modifica abbiamo convertito il nostro sistema idraulico a utilizzare le collezioni un altro punto in cui possiamo andare a utilizzare le collezioni è all'interno della classe element in cui abbiamo un array di elementi anche qui volendo possiamo utilizzare una lista quindi private usate list di element output uguale a new usiamo un array list qua tanto per per cambiare e ovviamente li possiamo importare entrambi quindi in realtà qui il new forse conviene farlo qua sotto array list ha un parametro che ci dice sostanzialmente quale è la dimensione iniziale da allocare alla nostra array list e quindi possiamo tranquillamente andare a mettere la dimensione che tanto non verrà superata quindi aggiungiamo l'elemento e se vogliamo andare a impostare un certo elemento punto set index elm ora mentre qui vi sposto il codice qua sotto così siamo passati da tutta questa serie di righe a questa semplice riga e quindi ci abbiamo risparmiato nel caso del nostro elemento in realtà non è cambiato molto ok il codice è analogo a quello di prima il numero che io ho messo qua nel costruttore di array list lo possiamo vedere nella documentazione online array list che ha un parametro intero costruisce una lista vuota con la capacità iniziale che è specificata dal parametro quindi è la dimensione iniziale dell'array list dimensione in realtà non è la dimensione perché l'array list inizialmente è vuoto ma è la capacità quindi dietro andrà ad allocare un array con quella dimensione non è strettamente necessario metterlo però è un'ottimizzazione in più che suggerisce alla virtual machine quando crea l'array list di crearla con quello spazio massimo dobbiamo ancora andare a modificare le ultime operazioni quindi fare un return di out put punto get t0 e qui fare return output punto to array new element quadre di output punto size allora due domande cosa va cosa cambia tra set e add sostanzialmente set va a definire l'elemento con quell'indice uguale al parametro add aggiunge un elemento in quella posizione quindi se c'era già un elemento in quella posizione o in quelle successive questi vengono traslati in avanti ok per cui ve lo scrivo qua il set mi trasforma immaginiamo che sia set 1 virgola un certo valore x passo da immaginiamo di avere 1 2 e 3 come array questo mi fa andare in 1 x 3 sostanzialmente mi prende l'elemento con indice 1 e me lo soddisfisce col valore x invece l'add se io faccio add x di 1 mi trasforma x 2 e 3 quindi mi aggiunge l'elemento e mi fa andare avanti gli altri nel nostro caso specifico io voglio andare a mettere l'elemento nella posizione e non aggiungerlo se volessi aggiungere in una certa posizione invece senza cancellare l'elemento precedentemente presente allora utilizzo l'add domanda quando specifico il parametro eccolo qua quando specifico nella new array list un numero l'array list non sarà ridimensionabile all'infinito sì l'array list sarà ridimensionabile comunque quindi non posso andare a bloccare ridimensionamento quello che faccio è prealloccare una dimensione quindi se so già che comunque quella è la dimensione massima a cui arriverò faccio che allocare subito quella dimensione lì in modo che non sia necessario fare riallocazioni successive resta il fatto che se per caso supero quella dimensione iniziale la riallocazione verrà eseguita normalmente come faccio con qualunque array list allora salvo e rieseguo il test per verificare di non aver fatto pasticci quindi run as junit test a questo punto questa modifica evidentemente ci ha portato a un qualche problema per cui ad esempio sync get output index out of bounds exception perché qui ho cercato di andare a prelevare un elemento che non era presente mentre nell'array avevo la posizione 0 che mi dava comunque un valore cioè l'array è quello tutti gli elementi vengono inizializzati a null nel caso della lista quell'elemento non c'è ok per cui qua devo rimettere un if output punto size è uguale a 0 return null rieseguo i miei test a questo punto ho un altro errore scusate in realtà qui ecco in realtà il problema ce l'abbiamo qui l'elemento che vado ad aggiungere non c'è ok quindi esattamente la situazione è questa ho un'array vuoto e l'indice 0 non funziona ok quindi se apus punto size è minore di lm meno 1 allora andrò a fare un add altrimenti se l'elemento già esiste faccio un set scusate non ele ma bensì index ora se non ho fatto errori ho sempre lo stesso errore quindi qua allora la dimensione è 0 no in realtà è diverso il controllo che devo fare e così ok a questo punto se un elemento lo aggiungo ok allora vi invito a osservare allora prima di tutto il vantaggio di avere i test perché questo errore qua io l'ho scritto velocemente il codice non ci avevo pensato e quindi il test immediatamente mi ha permesso di andare a rilevare quello che è un problema ok quindi il discorso di prima sull'avere i test come rete di sicurezza che mi permette di identificare un problema che ho inserito non appena l'ho fatto l'abbiamo visto in pratica seconda considerazione per quanto riguarda il nostro sistema è ovvio che andando a sostituire questo noi abbiamo potuto eliminare questo max abbiamo potuto eliminare il next e quindi abbiamo semplicemente questa nostra linked list abbiamo semplificato molto questo element perché l'abbiamo ridotto a una riga e il resto sostanzialmente è tutto abbastanza semplice ok una riga con l'altra anzi tendenzialmente è più semplice perché invece di andare a fare next++ ho semplicemente fatto un add ok mentre invece nel caso del nostro element allora in termini di struttura dati non abbiamo semplificato molto abbiamo messo un tipo invece di un altro tuttavia tutte le altre operazioni risultano molto più complicate quindi in generale ora che sappiamo le collezioni tendenzialmente dobbiamo usare quelle ma non sempre è una collezione è meglio di un array a volte avendo una dimensione fissa già dall'inizio è più semplice avere a che fare con un array piuttosto che avere una collezione perché la collezione ha una dimensione variabile ok quindi in generale per default noi utilizzeremo le collezioni quindi liste set eccetera ma in generale non è sempre la risposta migliore allora osservazione però a questo punto l'add non funziona più correttamente perché in realtà se io cerco di aggiungere un elemento non me lo mette nella posizione corretta in realtà se io cerco di mettere un se io ho un array list che è lunga 2 e cerco di fare un add alla posizione 4 quindi non 3 non la prima che c'è vuota mi viene generata un'eccezione quindi in realtà qui dovrei andare a verificare che la dimensione della mia lista sia esattamente giusta una in meno il get output e qua è sostanzialmente se la dimensione sul singolo è 0 restituisco null altrimenti restituisco il primo elemento il get output semplicemente esattamente come avevamo fatto nel nostro metodo in cui recuperiamo tutti gli elementi creiamo un array di elementi della dimensione giusta e lo restituiamo quindi esattamente ve lo faccio in un esempio separato così non andiamo a pasticciare ulteriormente il codice che abbiamo già scritto esempio array list array list lo facciamo con delle stringhe per semplicità l uguale new array list di 10 importiamo questo cosa ci fa? ci crea un array list che ha una dimensione preallocata di 10 elementi ma attenzione la dimensione inizialmente è sempre 0 ovviamente posso andare a fare un l punto add in posizione 0 di primo perfetto posso fare un l punto add in posizione 1 di secondo quello che non posso fare è fare un elemento in posizione 3 di quarto perché ho indice 3 ma la dimensione è 2 attenzione non posso fare né un add né un set ok quindi l'uno o l'altro non funzionano quello che posso fare qua è vedete dopo aver messo un elemento ne aggiungo un secondo quindi prima di aggiungere il secondo elemento mi ritrovo con la posizione con la dimensione 1 e io cerco di andare a mettere in posizione 1 attenzione posso fare un add o posso fare un set il problema del set è che il set prevede che l'elemento ci sia già mentre invece l'add funziona anche se quell'elemento non c'è ancora quindi se è il primo dopo l'ultimo elemento quindi add di 1 secondo funziona set di 1 non funziona perché l'elemento 1 non c'è ancora e quindi non lo posso sostituire allora per gli array se io voglio andare a definire gli elementi c'è un metodo che si chiama set all che mi permette di andare a inizializzare tutti gli elementi di un array ok per quanto riguarda le le liste non c'è un quindi nelle collection non c'è un metodo set all ok quindi se voglio farlo devo andare a scrivere ad esempio un ciclo che mi aggiunge tutti gli elementi uguali domanda ad 1 aggiunge in posizione 1 e shift gli elementi successivi quindi precedente 1 tutti a destra allora io in questo momento parto da una lista vuota e diventa una lista che contiene primo se faccio un altro ad di 0 primissimo parto da questo e ottengo vabbè ve lo faccio stampare L quindi primissimo me lo mette prima quindi visto che c'è già un elemento in posizione 0 mi fa andare avanti gli altri allora l'altra domanda gli array sono già settati all'inizio sì quando io dichiaro un array automaticamente sono tutti o null o zero o false se sono array di booleani il metodo arrays appunto set all mi serve per andare a impostare un valore che sia diverso da quello di default ma in ogni caso gli array sono tutti automaticamente inizializzati cioè tutti gli elementi degli array sono inizializzati quindi o zero o false o null se sono array di oggetti quindi di riferimenti non abbiamo tanto tempo vorrei provare a allora domanda non è chiaro il 10 nel costruttore allora nell'esempio il 10 come esattamente nell'esempio precedente quando io ho un array list posso passare un valore e questo mi prealloca una dimensione massima che mi evita di andare a ridimensionare l'array quando aggiungo degli elementi quindi questa è una specie di preallocazione la dimensione però come vediamo resta zero quindi non ha nulla a che fare con questa dimensione questo è semplicemente un dettaglio interno di preallocazione della memoria sì come dicevo prima non elimina l'autoridimensionamento una volta che raggiungo la dimensione di 10 semplicemente evito di dover ridimensionare prima di raggiungere quella dimensione per cui se io già so che in anticipo che quella sarà la dimensione massima mettendo quello evito di ridimensionamenti andiamo a vedere un attimo velocemente i requisiti allora qui parliamo di un multisplit che permette di andare a definire un'estensione della classe split e in effetti se andiamo a vedere multisplit sostanzialmente estende split quindi ha esattamente gli stessi metodi l'unica differenza è che qua passo un numero di output qui posso andare a sfruttare il metodo scusate il costruttore di elementi che è quello che abbiamo visto prima che riceve più parametri il secondo è il numero massimo di elementi a questo punto qui invece di passare semplicemente il numero vado a passare anche soltanto il nome scusate vado a passare anche il numero di output attenzione che super invoca il costruttore della classe di base ovvero split non di element che abbiamo visto prima quindi è necessario andare a mettere in split un altro costruttore possiamo tranquillamente metterlo con una visibilità ridotta che accetti un se volete possiamo dire che è protected quindi servirà alle classi che ereditano da split e qui andiamo a mettere num output e questo valore lo rigiriamo al costruttore di element ok vi torna quindi quando costruisco un multisplit vado a specificare nel suo costruttore il numero di elementi questo viene passato qui al costruttore della classe di base che è split e la classe di base split cosa fa? ricevendo questo parametro lo gira a sua volta al costruttore della classe di base che in questo caso diventa element e quindi questo andrà a creare l'array oppure l'array list a seconda di quali delle due soluzioni sceglieremo di utilizzare per creare elementi scusate a questo punto get output possiamo anche non implementarlo e sfruttare quello della classe di base element il connect anche perché implementarlo se c'è già nella classe di base e il set proportion invece no il set proportion ragionevolmente deve avere delle dei valori specifici allora vi faccio notare che qui ho utilizzato non un array ma bensì il numero variabile di parametri questo vuol dire che set proportion può essere chiamato e forse lo vediamo qui vedete set proportion può essere chiamato mi metto gli zeri così sono un po' più leggibili in questo modo ma set proportion potrebbe anche essere chiamato in quest'altro modo quindi dire double quadre proportion uguale un array e poi fare set proportion in cui passo direttamente direttamente ops quindi quando il numero variabile di parametri quindi puntini lì posso passare o veramente una lista di parametri oppure posso passare direttamente un array tanto comunque all'interno di questo metodo proportion verrà trattato vedete nella definizione come un array di double quindi se passo la lista di parametri quelli vengono compattati all'interno di un array se passo un array viene utilizzato direttamente quello a questo punto le proporzioni possiamo tranquillamente andare a metterle qua quindi posso avere un double quadre proportions e qui semplicemente posso andare a dire this punto proportions uguale proportions domanda non si poteva scrivere proportions quadre no allora questo è quello che ci viene dato se io qui avessi messo double quadre o double proportion quadre nel mio esempio non avrei potuto andare a elencare gli elementi in questo modo quindi il puntini puntini mi permette di andare a scrivere questo se avessi messo le quadre l'unica scrittura consentita dal compilatore sarebbe stata questa quindi se vado ad eseguire il mio test di prova quindi junit test ottengo ovviamente un errore perché non ho implementato tutto ma a questo punto l'errore è qua dopo un'operazione di delete e la delete in realtà non l'abbiamo ancora implementata quindi fino a questo punto è andato tutto a posto ok e qui abbiamo la stampa della simulazione che è stata fatta qua ok il set proportion a questo punto deve essere utilizzato anche per fare l'operazione di simulazione quindi se andiamo a vedere lo split nello split noi abbiamo il nostro metodo simulate che fa un'operazione di suddivisione quindi quello che dobbiamo fare è prendere questa simulate e andarlo a modificare opportunamente all'interno del nostro multisplit ok la differenza sostanzialmente è che non vado più a dividere per due ma bensì ogni volta che vado a calcolare uno split quello che vado a costruire è un array con una serie di flow in uscita che sono proporzionali a questo array proportion che abbiamo impostato prima ok quindi avrò un double outflow uguale new double di proportions punto length ok quindi i flussi sono uguali come numerosità alle proporzioni con cui vado a ripartirli e poi per i che va da zero i minore di proportions punto 20 qui out flow di i è uguale a in flow per proportions quindi vado a calcolare i vari flussi e li ripartisco e poi vado a fare la simulazione ovviamente nella simulazione dovrò andare a mettere un flusso in uscita che dipende dal numero dell'output ok quindi element quadre output uguale a getoutput mettiamo un ciclo esattamente come quello di prima perché così abbiamo l'indice che ci permette di andare a prendere gli indici corrispondenti quindi andrò andare a fare un output di i punto simulate e andrò a mettere come outflow l'elemento iesimo dei flussi in uscita che abbiamo calcolato prima quindi di nuovo verifico che tutto funziona almeno fino a quel punto vedete che i flussi in uscita sono 5 7 e 8 ok perché sono stati divisi in base al all'info ai flussi che abbiamo messo prima sostanzialmente quelli che abbiamo messo qua vedete 25 35 e 40 per cento e quindi il 25 di 20 è sostanzialmente 5 il 35 è 7 e il 40 è 8 e quindi i flussi in uscita dal nostro multi split sono questi qua corretti ok il test non va a verificare questo dettaglio ma semplicemente se lo stampa quindi lo possiamo vedere questo test e poi i test più specifici vanno a verificare anche questo dettaglio poi c'è il layout che va a stampare quello che è la struttura del nostro flusso visto che non abbiamo tanto tempo invece di scrivervelo direttamente vi faccio vedere la soluzione della stampa del layout ok invece di costruirlo assieme allora riprendo la soluzione che è qua e vado a prendervi non questo scusatemi ma è questo il metodo layout è quello che vediamo qua sopra ok vado a utilizzare uno stream buffer per andare a costruire tutto il layout e i vari metodi layout di tutti gli elementi quindi vado a definire un metodo layout su tutti gli elementi questi mi restituiranno delle stringhe che vanno ad accodare al mio risultato che cosa faccio? faccio una scansione su tutti i miei elementi e se l'elemento non è nullo e è un'istanza di source quindi parto da tutte le sorgenti vado a accodare al mio risultato la chiamata al metodo layout partendo da sostanzialmente la posizione iniziale e poi restituisco un toString sostanzialmente quando io ho un problema di questo tipo ci sono due alternative una è quella di andare a fare dentro questo metodo tutta la struttura quindi mettere una serie di instance of andando a distinguere i casi di source, sync, tap split, multi-split eccetera l'altra alternativa è quella che vediamo qua sostanzialmente di andare a delegare agli elementi di produrre il proprio layout qual è la difficoltà di questa seconda variante è che un elemento non sa dove è posizionato se è il primo oppure se è un elemento più avanti quindi il parametro che viene passato sostanzialmente serve per andare a dire di quanto deve essere spostato verso destra nella stampa quell'elemento inizialmente nulla perché stiamo partendo da una sorgente a questo punto andiamo a vedere il metodo layout della sorgente allora domanda non è inutile dichiarare uno string buffer nel met layout allora l'alternativa molto più semplice è fare un return di get elements 0.layout ok in realtà il layout per come l'ho fatto io è uno string buffer quindi posso fare un punto su string nel caso del nostro test questo è assolutamente equivalente il punto è che chi ci dice che il primo elemento sia effettivamente il l'assorgente nel nostro test di esempio torno qua scusatemi eccoci qua il primo elemento che aggiungo è l'assorgente e quindi partiamo dall'assunto che il primo elemento sia un assorgente ma questo non è detto per cui quel get elements di 0 potrebbe non funzionare ok quindi non è detto nel nostro test specifico va bene però se l'assorgente viene aggiunta non per prima ma per seconda questo non funziona ed è il motivo per cui qua c'è questo ciclo e c'è un instance of secondo punto chi ha detto che l'assorgente sia una sola? di nuovo nel test di esempio ce n'è una sola ma in realtà nei requisiti non questi ma quelli della del primo esercizio la simulazione ecco qua il metodo simulate della classe H-System effettua i calcoli di portata a partire da ogni sorgente quindi implicitamente non c'è non si assume che ce ne sia una sola potrebbero essere ce n'è tante per cui questo è la versione minimale assumendo che funziona se 1 il primo elemento aggiunto è la sorgente e 2 c'è una sola sorgente quindi in questo caso nel caso specifico dell'esempio questa scrittura molto più semplice di fatto ci dà lo stesso risultato lo stream buffer qui è utilizzato perché potenzialmente ce ne sono più di una e quindi in questo modo farci una concatenazione è un po' più efficiente però potrei utilizzare una stringa e utilizzare un più sempre nell'assunto che ci possono essere più sorgenti ok quindi quella è la versione corta che funziona in un caso specifico questa è la versione più generale ok poi nel caso dei test probabilmente quella funziona esattamente nello stesso modo dell'altra come funzionano i metodi layout allora iniziamo dal source che è quello un po' più semplice il metodo è questo questo parametro stringa è il pad ovvero quanto io devo andare a mettere prima di stampare il dettaglio del mio elemento ovviamente per l'assorgente che è l'elemento iniziale il pad sarà zero cioè nessun carattere man mano che aggiungo degli elementi soprattutto se questi si dividono come lo split o il multi split devo andare a prevedere un po' di spaziature iniziali in modo che poi sia tutto incolonnato io qui ho utilizzato come pad una stringa perché dentro quella stringa potrebbero comparire oltre agli spazi semplicemente mi sposto più o meno a destra anche delle linee verticali adesso ci arriviamo ok una versione un po' più semplificata permetterebbe qui di avere non una stringa ma bensì un intero ok l'intero però non mi permette di gestire tutti i casi allora qui cosa faccio utilizzo come al solito uno string buffer però potrei utilizzare una stringa in maniera un po' più sintetica per quanto riguarda la nostra nostro sorgente che cosa faccio metto quadra il nome chiusa quadra il tipo quindi source e poi la freccia la sorgente punta al prossimo elemento e ovviamente cosa segue dopo faccio un appende di get output punto layout e qui vado a mettere blanks di res punto length cosa faccio blanks scusate ve lo faccio vedere eccolo qua è messo dentro la classe element è un metodo che in pratica dato un valore intero ci restituisce una stringa che contiene tanti spazi quanto è il numero n ve lo metto qua come commento restituisce una stringa costituita da n spazi n il parametro n è il numero di spazi da inserire nel caso specifico ci sono vari modi vado a creare un array di caratteri con n posti faccio un'operazione di fill è analogo al set all che vi dicevo prima in cui vado a riempire questo array di caratteri con il carattere di spazio e poi faccio new string di questo risultato è uno dei tanti modi di andare a creare una stringa che contiene n spazi ok se ve lo dessi come compito probabilmente salterebbero fuori almeno una ventina di versioni diverse ok ognuno di voi magari ha una variante non è particolarmente rilevante ok l'idea è che questo metodo scusatemi torniamo a source qua l'idea è che questo metodo restituisce una stringa costruita da n spazi quanti spazi quanti ne abbiamo già messi nel nostro risultato ovvero la lunghezza dell'output quello che abbiamo generato la riga sopra quindi la quadra il nome la chiusa quadra source eccetera ecco tutto questo va a costruire una stringa e noi diciamo va bene i prossimi elementi dovranno essere allineati a partire da quella posizione in avanti e quindi genero tanti spazi quanto ne ho già costruito ne ho già messi io e poi chiamo il metodo layout su tutti gli altri elementi ora per quanto riguarda il tap non cambia molto ok il metodo layout è assolutamente analogo a quello di prima faccio un append quadra il nome chiudo da quadra tap freccia e poi e poi faccio append get output layout pad più numero di spazi corrispondente a quanto abbiamo già fatto ok vi faccio notare che qui faccio pad più quindi aggiungo gli spazi che ho inserito con la stampa del rubinetto a quelli che già c'erano e che mi sono stati passati qua lo split lo split è un pochettino più complicato perché perché lo vediamo qui l'output deve poter fare una cosa di questo tipo ok ve lo copio nel codice perché così lo vediamo meglio ve lo ingrandisco quello che voglio andare a produrre è una cosa di questo tipo ok per cui vedete per la sorgente abbiamo già visto come funziona è questo per il tap abbiamo già visto come funziona è questo per lo split devo andare a mettere tutto questo questo pezzettino poi devo andare a chiamare il layout di quello che c'è a valle che nel nostro caso sarà un sync ma potrebbe essere qualunque altra cosa poi devo stampare lo spazio e poi devo andare a stampare quest'altro quindi che cosa faccio al mio string buffer vado ad aggiungere quadra nome e split freccia e quindi sostanzialmente vado a mettere questo poi nel pad vado ad aggiungere tutto quanto c'era prima cioè tutti questi spazi che c'erano già prima più un numero di spazi che corrisponde ai caratteri che arrivano fino a qua ok meno questi 4 qua che ho aggiunto ok o se preferite mi fermo lì e poi faccio res.append l'altro pezzettino in modo da andare a creare gli spazi fino a qui quindi tutto quello che c'era qua più quello che ho scritto fino qui in corrispondenza di questo ok perché devo usare la lente perché il nome del del mio del mio oggetto che in questo caso è una lettera potrebbe cambiare quindi non è noto a priori devo utilizzare la dimensione lente poi che cosa faccio vado a prendere get output 0 punto layout e qui vi passo gli spazi che ho già messo più questo questo serve nel caso qui io abbia un ulteriore split in modo che negli spazi successivi ci sia questa vara verticale stampo una capo stampo una riga di separazione che è sostanzialmente questa ok qui dopo dopo di che stampo il padding che avevo calcolato finora cioè tutto questo più il trattino e poi vado ad accodare il layout dell'output numero 2 il multi split è leggermente più complicato ma perché sostanzialmente non ha due output ma ne ha più di più di due ed è quello che vediamo qui sotto nel layout dove sostanzialmente invece di avere la stampa dell'output 0 e dell'output 1 vado a fare un ciclo su tutti gli output e per gli elementi successivi al primo andrò a stampare a capo la riga vuota con il pipe e poi la freccia e poi faccio un append del layout di quello che segue di nuovo questa parte qua potrei anche non metterla togliere qua il 4 e andare a mettere questo qui a questo punto se vado a lanciare l'output il test di questa soluzione quello che ottengo è questo un po' pasticciato perché probabilmente ho due output diversi ok domanda la funzione blanks aggiunge gli spazi in base alla lunghezza della stringa finché non si va a capo sì sostanzialmente ogni volta che io aggiungo un pezzettino quindi questo mi aggiunge tanti spazi quanti sono quelli che ho aggiunto e quindi ogni riga successiva andrà a prendere quella spaziatura lì quelli precedenti più quelli che aggiungo in modo da mantenere gli elementi allineati qui sul multi split c'è una spaziatura in più che probabilmente è errata ecco giustamente perché qua non dovevo aggiungere questo ma dovevo aggiungere semplicemente l'altro pezzo ok a questo punto se rilancio eccoci qua questo è l'output del sistema con il multi split e questo è l'output dopo aver cancellato il tap allora domanda come faccio a tenere conto delle righe successive degli spazi aggiuntivi quando io faccio sub pad è uguale a pad quindi tutto quello che c'era prima più i blanks e quindi ogni volta che aggiungo un elemento aggiungo a quelli che c'erano già prima dei nuovi spazi allora domanda res.length non varia andando a aggiungere gli elementi sì ma io la lunghezza la prendo prima di aggiungere gli altri elementi quindi quando ho messo semplicemente il primo pezzo vado a vedere la lunghezza e genero gli spazi quindi vado ad aggiungere gli spazi che corrispondono al pezzettino che ho aggiunto li sommo agli spazi che già c'erano e quindi so di quanto spostare a questo punto questo lo passo successivamente e quindi l'elemento successivo se necessario andrà ad aggiungere a questo degli altri spazi domanda questa soluzione contempla più split in serie sì perché vado ad aggiungere degli elementi lo proviamo direttamente allora vado ad aggiungere qua invece del sync 3 vado ad aggiungere un split sp uguale new split secondo poi poi faccio s. s. add element sp poi ho un sync 3 e ovviamente avendo lo split con un altro output avrò un altro split che è il sync 4 dopodiché faccio t.connect abbiamo detto split e poi faccio sp.connect p virgola 2 e qui 0 e 1 e il 4 a questo punto se eseguo scusate non si vede l'output allora si ferma prima perché il test andava a verificare la dimensione dell'array però vediamo eccolo qua anche qua c'era un errore prima perché si aspettava le notifiche ok allora allora questo è l'output quindi funziona con lo split in cascata l'unica cosa è che ci sono questi trattini che in realtà andrebbero rimossi sull'ultimo elemento ok ok allora per risolvere questo problema bisogna andare a cambiare il padding per l'ultima stampa quindi devo andare a verificare che quando ho il multi split nell'ultimo padding non ci sia sostanzialmente lo spazio ok quindi questo qui non dovrebbe esserci quando i uguale a this output this output meno 1 domanda per il punto 8 nel presentarsi di un errore la simulazione deve comunque andare avanti allora andiamo a prendere il punto 8 velocemente la simulazione sostanzialmente devo andare a segnalare l'errore e poi non c'è nessun nessuna specifica sul fatto che la simulazione debba andare avanti oppure no nella soluzione che io ho qua quando vado a fare la simulazione che sostanzialmente sulla sulla portata massima in realtà ce l'ho sulle prendiamo il tap ad esempio nel caso specifico qui vedete che se abbiamo un simulation osservare eccetera eccetera notifica l'errore e continua la simulazione ok però nelle specifiche non c'è scritto nulla quindi in realtà potreste anche eventualmente fermare la simulazione il punto è come fate a fermare la simulazione non potete lanciare un'eccezione perché questo metodo non lo prevede l'unica cosa che potete fare è fare un return invece di andare avanti come in questo caso quando faccio un altro simulate le soluzioni non ci sono ancora ve le pubblico purtroppo stamattina abbiamo dedicato altro tempo a chiarire alcuni aspetti vi pubblico queste soluzioni così potete dare un'occhiata vi metto il link sulla pagina sullo slack del corso le metto non sul repository degli esempi sui repository degli esempi vi metto quello che abbiamo visto fino a un attimo fa con le varianti e comunque vi mando i test e vi pubblico le soluzioni domanda sulla rimozione sulla rimozione sì io potrei andare a verificare che ci siano che non si tratti di un sync perché se elimino un sync ovviamente non c'è nulla di nuovo però se andiamo a prendere lo vado a prendere qua il metodo non su element scusate ma su system il metodo delete non lancia nessuna eccezione quindi in realtà quello che posso fare se la cancellazione non ha senso è semplicemente saltare ok se ci fossero le eccezioni lancierei un'eccezione dicendo che quell'elemento non può essere cancellato ok scusate abbiamo sforato direi che chiudo vi manderò i test e vi pubblicherò le soluzioni di un'eccezione di un'eccezione